buon dia a tutti ragazzi sono sempre io e questa qui come vi avevo già detto nel settimo vlog è la seconda parte del settimo vlog e l'ho fatta appunto perchè nell'altro questa qui durerà poco diciamo poco penso perchè devo dire meno cose perchè tutta la parte del fanart l'ho già fatta vedere nel vlog prima mi dispiace di non aver fatto questa seconda parte subito perchè ho avuto un po' d'affore e quindi niente allora oggi la potete vedere e bene quindi partiamo con il dato mondo non risponde ricordo sempre prima di andare se volete scrivere in una dato mondo non risponde che in realtà è una semplicissima domanda a cui io risponderò scrivetela nell'ultimo vlog quindi o in questa puntata o nel vlog scorso fate come volete e ok andiamo allora ok siamo nella parte il dato mondo non risponde e non so se vedete benissimo la scritta del dato mondo non risponde comunque luca lops chiede dato mondo non risponde gina lava marco marco lava due punti interrogativi adesso vediamo lascio la parola al grande cappellato sì allora ehm beh gina lava marco marco lava forse gina sì è una domanda abbastanza difficile perché gina lava marco che potrebbe mai lavare gina ehm boh gina latati da sola no scusa perché ti deve lavare marco ehm comunque ehm lava la lava perfetto dopo questa bellissima risposta che ho dato lascerei la parola a Dado Monti quel modello perfetto spero che la ehm la risposta del cappellaio sì e sia stata di otto gradimento e perfetto mhm adesso ehm vi vorrei riillustrare il calendario ehm di DadoMod il calendario di DadoMod è il seguente che parola eh ok eh lunedì trollface quest eh beh eh sì beh dobbiamo andare avanti in questo gioco e aspettate un attimo sì eh perfetto no stavo guardando un attimo in un altro computer che stavo dicando a un blocco bello forse è Team Fortress 2 forse farà un video anche su quello ma non lo so ma però andiamo avanti che non lo so ok eh martedì invece farò Kingdom Rouge e naturalmente o le avventure di Adon World non vi preoccupate non vi mangiate le unghie dei piedi e mercoledì poi Minecraft giovedì se non faccio martedì Kingdom Rouge lo farò giovedì semplice farò martedì giovedì farò Greta e Ansel venerdì invece Happy Wheels sabato blog e domenica forse se ho voglia Omegle vabbè e mi raccomando su Omegle ci sono dalle 19 no dalle 18 e mezza fino alle 19 circa di domenica quindi cercatemi ok perfetto e poi questo vorrei dire che questo calendario non lo c'è l'ho fatto tanto per seguirlo un po' ma non è detto che adesso faccio un video ogni giorno perché è abbastanza difficile capite? perché provatelo a farlo a voi è abbastanza complicato perché con una cosa e l'altra non si può fare tutto e quindi qualche cosa salverò mi dispiace che oggi non ho potuto fare le avventure di Dado Mood e babababab e quindi mi dispiace lo farò la prossima volta ma vi assicuro che quello che sto pensando è da tante cose quindi perfetto e quindi io con questo chiuderei siamo a 5 minuti quindi è durato abbastanza poco e mi va bene così carichamente le veloce e bene e quindi commentate iscrivetevi mettete mi piace buon dia a tutti ragazzi